Venerdì presso l'atrio del Casino Bruno di Belmonte sono stati presentati i numeri 29 e 30 della rivista Ispice Fundus. Dopo i saluti del presidente della società ispicese di storia patria, dottor Francesco Fronte, c'è stata la conversazione tutta femminile tra la scrittrice Maria Attanasio, autrice del libro Lo splendore del niente ed altre storie, e la scrittrice Costanza Di Quattro, autrice del libro La mia casa di Montalbano. Il nostro Piero Giunta ha intervistato entrambe le scrittrici, Maria Attanasio che sentiremo oggi e Costanza Di Quattro che ascolteremo domani. Sentiamo cosa ci ha detto ai nostri microfoni Maria Attanasio. Maria Attanasio per la terza volta ospite della società ispicese di storia patria, per presentare la sua ultima opera Lo splendore del niente e le altre storie. Dopo la ragazza di Marsiglia, romanzo storico sulla moglie di Francesco Crispi, unica donna presente nella spedizione dei Mille di Garibaldi, dedica la sua attenzione a queste donne, dimenticate della storia ufficiale. Ancora oggi pensa che le donne siano sacrificate a una storia tutta al maschile? Sì, ritengo che oggi, nonostante ci sia questa sbandierata uguaglianza tra i sessi, con stessi diritti e stessi doveri, io ritengo che accada questo. È vero che c'è a parole questa uguaglianza, però le donne ancora oggi sono prevalentemente oggetto del desiderio. Vengono viste in questo modo, infatti se uno vede, è il corpo che prevale, non è la mente, non è l'intelletto, non è il potere delle donne. Ecco, quante donne ci sono, Presidente del Consiglio, ci sono state in Italia? Nessuna. Quante Presidente della Repubblica? Nessuna. Cioè, nei luoghi del potere, ecco, perché in fondo le donne non ci sono, perché l'educazione al femminile è come se guardasse sempre all'occhio maschile. Ecco, questo, quindi ritengo che, ecco, parlare di donne, parlare anche di portare le donne a esserci, come protagoniste, non solo nel vestito, nel corpo, ma soprattutto nella mente e secondo me anche nel potere. Conversare del suo libro con una giovane scrittrice, Costanza Di Quattro, di storia al femminile, una scelta della società storica locale che mette al centro le donne e la loro scrittura. Lei, che ne pensa? Ma io penso che questo accoppiato tra me e la giovane scrittrice della mia casa di Montalbano è una cosa molto bella, anche perché diventa anche un dialogo tra donne. Tra donne è a partire da esperienze di donne, esperienze anche familiari, come dire, di famiglia, intimistiche, intimistiche anche di costume, la giovane scrittrice che mi presenterà. E per quanto mi riguarda invece con questo ritorno alle donne che ci sono state, che sono state altrettanto forti, piene di dignità, come lo siamo noi, anche se sono state cancellate dalla grande storia e anche dalla microstoria. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio la scrittrice Maria Tanafio, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.